Grazie, buonasera a tutti. Sono particolarmente onorata di essere qui questa sera per la Festa delle Marche. Saluto il Sindaco Silvetti, il Presidente della Regione, Sua Eccellenza il Prefetto Pellos, che saluto calorosamente anche per il fatto che è una delle ultime sue partecipazioni da Prefetto di Ancona. Lo saluto con grande calore. Tutte le autorità civili e militari e religiose presenti, Sua Eccellenza il Vescovo. La mia presenza qui questa sera vuole solo, per un brevissimo saluto, sottolineare la vicinanza del Governo a questa Regione, vicinanza che per me è vicinanza territoriale, ma è una vicinanza significativa all'aggiunta del Presidente Acquaroli e tutta l'aggiunta regionale, che è stata siglata, sancita anche attraverso diversi atti. Volevo ricordare da ultimo l'accordo di coesione che è stato siglato, vergato ad Acqualagna qualche settimana fa. Un accordo nel quale attraverso il fondo di coesione, il fondo di rotazione, attraverso il cofinanziamento regionale si è creata, si è costituita la possibilità di un finanziamento di oltre mezzo miliardo per questa Regione e ricordo che circa il 70% di questo importo è proprio destinato alle attività infrastrutturali. Attività infrastrutturali in quanto strade, autostrade, strade soprattutto di percorribilità interna, in quanto anche alla piena utilizzabilità dei porti, che sono state sempre uno degli obiettivi del Governo, sia nazionale, ricordo come il Presidente Giorgia Meloni abbia sottolineato da lungo tempo il paradosso di questa Regione che è al centro dell'Italia, ma nello stesso tempo è anche un po' isolata, lo sappiamo da tempo, per un atavico problema di isolamento infrastrutturale, lavoro che però su questo isolamento infrastrutturale è un lavoro che è veramente importante e che vuole ridurre non solo quello che è il divario nord-sud, ma che vuole ridurre anche quello che è il divario est-ovest nell'aspetto terreno-adriatico. Una parte di questi fondi di coesione verranno utilizzati, in particolare il fondo di rotazione per essere precisi, verranno utilizzati anche per un sostegno al turismo, alla cultura, alla formazione e al lavoro. Ecco, tutto questo per far sì che questa Regione, la nostra Regione, conosciuta del mondo per la sua intraprendenza, se vogliamo, per la sua volontà di riscatto, possa tornare a correre nella maniera che gli è data, che gli è dovuta e possa far vedere quale possibilità di dimostrare quanto vale e quanto può continuare a dimostrare, di saper correre. E a questo proposito volevo anche sottolineare che a questo lavoro dobbiamo collaborare tutti e stiamo collaborando tutti in una filiera istituzionale che nasce dal territorio, alla Regione, quindi gli antilocali, la Regione e il Governo nazionale. una valorizzazione che è la valorizzazione di una Regione, ma che è la valorizzazione di una nazione che deve tornare ad avere il suo ruolo nel mondo. Da ultimo mi preme complimentarmi per i premi che stasera verranno assegnati. Premi, se non vado errato, il picchio d'oro, il premio del Presidente. Ecco, mi preme sottolineare che questi premi, proprio in una Regione che vuole correre sempre più rapidamente, vengono assegnati a due scienziate, due studiosi, due particolari e importanti e prestigiosi scienziati della nostra Regione. Sono due donne e a dimostrare che le STEM sono anche una tipologia di disciplina che è particolarmente adatta alle donne, sono studiose sia delle biotecnologie che dell'intelligenza artificiale. Ecco, proprio mi complimento per questa scelta, anche perché siamo in una Regione che con uno sguardo al presente vuole guardare al futuro, con grande attenzione e con grande speranza. Ecco, e questo è l'augurio che faccio nella giornata di oggi, che è la giornata, tra l'altro, della festa della Madonna di Loreto, che è patrona della nostra Regione. Grazie a tutti.